Il Consiglio Comunale dice no all'intitolazione dell'Aula Consigliare a Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nella seduta svoltasi martedì sera, la maggioranza d'Aula, che sostiene il Sindaco Giovanni Formica, ha infatti bocciato la mozione avanzata dei consiglieri di opposizione dell'Udc ed ha bocciato dai rappresentanti della minoranza consigliare che chiedeva per l'appunto l'intitolazione dell'Aula alla memoria dei due giudici assassinati dalla mafia. Una parte dei consiglieri di maggioranza del PD ha richiesto in apertura di seduta di ritirare la mozione perché hanno sostenuto l'Aula doveva dimostrare di volare alto sulle questioni di mafia ed antimafia e che ci sono altri posti da poter rintitolare ai due magistrati. Alcuni consiglieri della maggioranza hanno accusato l'Udc di essere demagogico e strumentale e per questo hanno annunciato il voto contrario. Un rifiuto ribadito da altri consiglieri vicini all'amministrazione che ricordando l'impegno della sinistra militante nella lotta alla mafia hanno ribadito le loro posizioni. L'Udc e le varie rappresentanze di Forza Italia, Milazzo Futura, Faripartire il Cambiamento e Città Futura sono comunque rimasti fermi sulla necessità dell'intitolazione. Nessuna strumentalizzazione è stato ribadito dai consiglieri di opposizione ma un modo concreto di dare il giusto risalto ai nomi di Falcone e Borsellino dove si dovrebbe dare esempio di correttezza, moralità e spirito di sacrificio. Alla fine delle dichiarazioni il voto finale è 9 contrari, 3 astenuti, solo 6 favorevoli.